Dammela. No, no, chi di noi lo farebbe? Non lo so. Non lo guarda. Che bello. Grazie. Non c'è che una sigaretta. Ma se non fumi? Lo so che non fumo, io non aspiro perché fa venire il cancro, ma divento così incredibilmente bello con la sigaretta che non posso non averla in mano.